La decompressione è un esercizio davvero molto utile per risolvere gli acufeni, ma ti consiglio di seguire le istruzioni di un esperto, per esempio anche un subacqueo, loro la fanno sovente, e serve per liberare l'aria dall'orecchio interno compresso, successivamente puoi ascoltare il cd audio, basta acufeni, il suono della sacra sorgente che ti rilassa.